Buongiorno sposini e buone feste! Ci tenevo tantissimo a farvi i miei più cari auguri di buon Natale e di felice anno nuovo. E come al solito vi ricordo di lasciarvi un commentino qui sotto con le vostre richieste per i prossimi video che riprenderanno dopo l'epifania. Ancora buone feste! Ciao! Questo è inserito all'interno alcuni cuoricini, stelline e poi la partecipazione. Visto che la spera è una dimensione piuttosto limitata...